Benvenuti ad Al-Masra. Esplorate, recuperate informazioni e saccheggiate per avere nuove missioni. Forte presenza nemica. Preparatevi. Raggiungo questa zona. Bottino in vista. 1-1, portaci quegli obiettivi per far progredire la missione. Procedi all'estrazione. 1-1, portaci che si tratta. Questa zona. Vado qui. No, no, no. Raggiungo questa zona. 1-1, estrai quegli obiettivi per far progredire la missione fazione.